Se un bambino beve del dopobarba, cos'è meglio fare? Forse... dargli fuoco? Prenda queste, vada a casa e... Beep, beep, beep. Cose? Sio Paperone ti toccava in dei posti osceni? Cose? È un guaio. Fa così. Oh mio Dio, ha un occhio. Ha un occhio. Potrebbe essere un tumore. Non c'è tumore. Solo un'ostruzione che provoca una pressione, che provoca un vicino radionucleare, che provoca un vicino troppo affettuoso, che provoca i sintomi. Potrebbe essere un occhio. Pinky winky, pinky winky, pipsy, pipsy. L'ho già visto questo film. Il finale è sul Dark. Datemi i funghi, adesso! Ehi, ecco Skippy, l'allegro canguro! Nel suo corpo c'è un fantasma che impedisce a certi organi di funzionare. Donna! Tu sei una calcolatrice, il che ti rende ancora più eccitante. Dobbiamo interrompere la gravidanza. Già. Ehi! Ehi, Mela! Ehi! Non lo trovi divertente che ti chiamo sempre Mela? Ehi! Ti dispiace? Stiamo lavorando! Va peggiorando. E ancora? La guerra! Per la miseria, è un'evacuazione intestinale o un parto? Hai detto Peter Pan! Ha rubato la polvere, pezzo di merda! Fammi volare Peter! Ehi! 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 Ehi!